Franchini Acciai S.P.A. è uno dei principali produttori di forgiati in acciaio a livello europeo. L'azienda si trova a Mairano in provincia di Brescia a 80 chilometri da Milano e opera dal 1968 mantenendosi in costante evoluzione. Numerosi e continui investimenti in sviluppo tecnologico e nella diversificazione dei prodotti soddisfano le esigenze dei mercati globali in cui opera. I lingotti di Franchini Acciai provengono da acciaierie europee qualificate. La selezione della materia prima è il punto di partenza della filiera produttiva per ottenere ottimi forgiati. I tagli di lingotti e pezzi forgiati sono ottimizzati a misura grazie a una serie di 20 seghetti e a un impianto ossitalio. La forgiatura è il cuore dell'azienda. L'ampia gamma di 10 forni di diverso volume fino a 450 metri cubi permette di riscaldare i lingotti provenienti sia dal nostro magazzino sia direttamente dall'acciaieria su carro coibentato eseguendo una carica calda. I lingotti riscaldati alla temperatura desiderata vengono poi inseriti nelle presse a stampo aperto e sottoposti ad operazioni di ricalcatura, stiramento, spinatura, mandrinatura e altre lavorazioni speciali. Sono disponibili tre diverse presse da 2.500 tonnellate, da 3.500 tonnellate e da 8.000 tonnellate dotate di manipolatori integrati e automatizzati. È possibile gestire pezzi forgiati fino a 100 tonnellate. Un reparto all'avanguardia dedicato al trattamento termico conferisce ai forgiati le caratteristiche meccaniche e metallurgiche richieste. I forni mobili su rotaie raggiungono temperature fino a 1.150 gradi centigradi e sono dotati di sistemi di controllo avanzati. Le vasche sono equipaggiate con eliche dalle velocità regolabili per ottenere un'adeguata agitazione del mezzo di tempra che può essere selezionato tra acqua e polimero. La lunghezza dei manufatti trattati termicamente può arrivare fino a 24 metri. Il sistema di caricamento automatico è lo strumento che consente di trattare più pezzi contemporaneamente e di controllare i relativi tempi di trasferimento. Tutto il processo è controllato e gestito da personale altamente qualificato. L'officina di Franchini Acciai dispone di macchine a controllo numerico per lavorazioni meccaniche di sgrossatura e finitura dei pezzi forgiati quali torni paralleli e verticali, frese, alesatrici, foratrici. Il sistema qualità di Franchini Acciai è certificato secondo ISO 9001-2015. I tecnici seguono l'intero processo produttivo, dalla materia prima ai pezzi finiti, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle procedure interne e delle norme di riferimento, verificando il raggiungimento dei requisiti per ogni specifico prodotto. Il controllo della qualità superficiale è effettuato tramite particelle magnetiche e liquidi penetranti. La verifica della qualità interna è condotta mediante prove ad ultrasuoni, in manuale e in automatico. I controlli dimensionali sono svolti mediante calibri e dime. La misura della durezza superficiale è effettuata mediante e durometro Brinell da 3000 kg. Prove di stabilità a caldo sono effettuabili su rotori del peso massimo di 50 tonnellate, destinati ad essere installati in turbine a vapore o a gas. I controlli distruttivi sono svolti nel laboratorio interno che può effettuare prove meccaniche sia di trazione sia di tenacità all'impatto, esami metallografici mediante microscopia e analisi chimiche con quantometro. I manufatti prodotti da franchini acciai vengono trasportati in tutto il mondo, su strada, via aerea o via mare. Inoltre sono imballati con gabbi e casse conformi secondo ISPM 15. I tempi di transito sono veloci, i costi competitivi e il monitoraggio costante fino alla destinazione finale. Il sistema a qualità certificato, l'ottica di miglioramento continuo e le omologazioni internazionali, rilasciate dai principali enti di classifica, assicurano l'elevata qualità del prodotto e dell'intero processo, nonché la rispondenza ai requisiti chiesti dal cliente. Franchini Acciai opera principalmente nei settori dell'industria del petrolio e del gas, energetica, navale, nucleare, petrolchimica, del cemento, mineraria, impiantistica e meccanica generale. L'80% dei prodotti quali alberi, tubi, bussole, rotori, grossi corpi cavi, contenitori, colonne, rulli, corpi valvola, viene esportato. Franchini Acciai svolge da sempre innovazione di prodotto e di processo, quale parte integrante della propria filosofia di sviluppo, sia attraverso il proprio ufficio tecnico, sia tramite il coinvolgimento di consulenti, università, centri di ricerca, laboratori avanzati. Ad aprile 2017, Franchini Acciai ha ospitato nel proprio sito produttivo la riunione periodica dei membri del Comitato Europeo per il CRIP, ECCC, di cui fa parte. Il Comitato riunisce vari esperti sulla resistenza allo scorrimento a caldo degli acciai e leghe provenienti da industrie produttrici dei materiali, utilizzatori finali, enti governativi, centri di ricerca ed università. In questa occasione è stato inaugurato il centro per conferenze e workshop di Franchini Acciai.